Andremo adesso ad ascoltare un grande classico, la suonatina numero 5, Rondò, che per chi è alle prime arve e vuole iniziare a suonare qualcosa di più carino e musidale è decisamente il pezzo più adatto. Ascoltiamo Giulia Messina al pianoforte con suonatina numero 5, Rondò, di Muzio Clementi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giulia Messina dal cantante a pianista con la suonatina numero 5, Rondò, di Clementi.